Nel rapporto di oggi abbiamo diversi aggiornamenti dalla direzione di Kupyansk. Qui sono scoppiati improvvisi scontri a sud della foresta. I russi hanno finito il raggruppamento e deciso di rinnovare le ondate di attacchi su Sinkivka. Il villaggio è un punto chiave nello sbloccare lo spazio operativo e permettere ai russi di avanzare a nord di Kupyansk. Quindi questi eventi non sono sorprendenti. Quello che sorprende è la mancanza di una preparazione adeguata dei russi prima di lanciare gli attacchi. Le forze russe hanno già provato a prendersi in Kupyansk attraverso metodi più diretti e nonostante alcuni successi iniziali, i contrattacchi ucraini non solo hanno eliminato i punti d'appoggio ma hanno anche respinto le forze russe fino alla foresta. Questa è stata la ragione principale dietro la rielaborazione del loro approccio volendo infatti espandere il proprio controllo almeno nella porzione della foresta davanti all'insediamento così da evitare possibili manovre ucraine ai fianchi. Questo spiega l'improvviso aumentare degli scontri nella foresta. Nonostante alcuni russi dichiarino che ci siano dei progressi nella foresta non sono state ancora trovate prove a supporto specie per la mancanza di nuovi vettori d'attacco. Geolocalizzazioni infatti indicano che i loro recenti attacchi hanno bersagliato le stesse aree confermando quindi che gli ucraini nella foresta sono riusciti a difendere le posizioni dagli assalti russi. L'operazione difensiva ucraina ha costretto quindi i russi a continuare gli assalti in quelle aree densamente minate. Secondo il capo dell'amministrazione militare di Archiv, Olev Sunebov le forze russe hanno condotto una serie di avanzate meccanizzate usando gli MTLB invece dei carry. Alcune fonti russe riportano che due giorni di incessanti attacchi hanno portato le forze russe a stabilire controllo su diverse trince ucraine di fronte al villaggio e geolocalizzazioni confermano questi piccoli progressi a nord-est della fortezza. In più, secondo i rapporti recenti dei media russi, ci sarebbe un aumento delle attività partigiane mirata a sabotare la logistica ucraina in almeno cinque villaggi a nord-ovest e sud-est di Kupyansk, probabilmente per amplificare gli effetti degli assalti. Secondo diverse fonti, i russi avrebbero ripreso controllo delle trincee tra Sinkivka e la foresta. Geolocalizzazioni rilasciate dalla trentesima meccanizzata ucraina mostrano l'artiglieria che bersaglia queste posizioni che si trovano in uno spiazzo isolato a nord-ovest di Sinkivka, a circa 600 metri dal bordo della foresta. Altri video che mostrano la vicinanza delle posizioni russe a quelle ucraine presentano gli ultimi momenti di due soldati russi che lasciano i propri posti per tentare un attacco suicida contro le difese ucraine. Un drone da ricognizione è riuscito a individuarli e avvertire per tempo i difensori che li hanno eliminati mentre si avvicinavano, mostrando la vitale importanza delle informazioni ottenute tramite i droni. Immagini dal fronte mostrano il lavoro di controbatteria ucraino. Le forze russe avevano iniziato una preparazione d'artiglieria, rivelato le proprie posizioni e poco dopo un mista C è stato colpito. Gli ultimi rapporti indicano che gli operatori ucraini arrivano a colpire i bersagli anche fino a Liman Pershi, un'importante base russa. In generale le forze russe non hanno mostrato significativi miglioramenti nelle tattiche adottate, cosa mostrata dall'alto livello di attrito nei loro attacchi che hanno ottenuto minimi progressi. Le forze ucraine rimangono vigili e utilizzano droni e artiglieria per eliminare gli accumuli di forze russe minandone l'efficacia.